Un'Italia libera dalle mafie, libera dal lavoro sfruttato, ma una Calabria in particolar modo libera da tutto. Sì, noi abbiamo inteso avviare questa iniziativa, il 12, per dare un segnale forte sull'impegno anti-drangheta, anti-mafia che ci deve essere in Calabria, che non può essere visto più solo come un'attività convennistica, ma un'attività dove ognuno ci mette un pezzo di responsabilità. Noi il 12 annunceremo a Ciro anche la costituzione partecivile al processo Stigie, così come già abbiamo fatto con il processo Gotha di Reggio. Bisogna attivare quegli anticorpi che partono dal processo ma anche all'esterno del processo per fare una vera lotta all'andrangheta. Questo significa creare una rete, creare una rete con tutti i soggetti che in questo momento, come la CGL, sono impegnati nella lotta contro l'andrangheta. Quindi il 12 noi non lanciamo solo un messaggio esterno, ma vogliamo proprio rappresentare al Procuratore nazionale Caffiero De Raro, al Presidente d'Aviso pubblico Montà, al Presidente Bindi e le conclusioni con il nostro segretario Susanna Camusso per significare l'impegno concreto che noi ci mettiamo tutti i giorni nei luoghi di lavoro. Questa mattina avete incontrato anche il prefetto di Crotone, la disponibilità da un tavolo per quanto riguarda il mondo del lavoro? Sì, noi stiamo incontrando i prefetti della Calabria, la settimana scorsa abbiamo incontrato il prefetto di Reggio, oggi il prefetto di Stani di Crotone che è stato disponibile a un confronto rispetto ai temi del lavoro, del caporalato e dello sfruttamento. Abbiamo chiesto alla luce della soppressione dei comitati per l'emissione che erano in capo alle DTL di istituire nelle prefetture delle commissioni permanenti contro lo sfruttamento del lavoro irregolare, il lavoro nero, che si possano riunire con cadenza periodica per attivare insieme tutte quelle iniziative che chiamino la responsabilità sociale anche le imprese. Noi lo dicevamo poco fa, se esiste lo sfruttamento esistono gli sfruttatori. Noi abbiamo questo tema del lavoro poco dignitoso, del lavoro sfruttato che riguarda non solo l'agricoltura ma riguarda anche altri settori, soprattutto i giovani oggi non hanno una dignità nei rapporti di lavoro e quindi su questo noi abbiamo chiesto che si faccia una vigilanza che deve riguardare anche ovviamente le sezioni di vigilanza e di controllo tradizionali che sono quelle dell'ispettorato. A questo proposito c'è una carenza degli organici e degli ispettivi in Calabria di circa 80-90 unità che vanno colmati e per questo noi chiederemo il 12 anche al governo, ecco alla luce anche dell'impegno di questi giorni con il decreto dignitario e quello che sarà, di attivarsi perché si dia una mano e al sistema del mondo del lavoro calabrese anche a fare una battaglia contro l'andrangheta nel senso che si parte con una battaglia contro lo sfruttamento perché molte volte gli interessi dell'andrangheta tenere il mercato del lavoro che non riguarda solo il sistema dell'occupazione ma anche il sistema economico nel tentare di tenere soggiogate le imprese calabresi e il mondo del lavoro che crea quelle condizioni di sfruttamento.